Musica Rossella parte questa nuova avventura, ormai ti sei aperta a 360 gradi quando riguarda lo sport, di cosa si tratta? Allora praticamente l'EMS Revolution è una macchina che permette a tutti di allenarsi una volta a settimana per andare in compensazione di una settimana di palestra, quindi in questo modo si riducono anche i tempi perché la seduta durerà 20 minuti, è individuale e verrà seguita direttamente da un personal trainer. Quindi invoiamo tutti anche le persone, i professionisti che non hanno tempo di andare in palestra, le mamme a tempo pieno che non hanno tempo di andare in palestra con risultati molto più efficienti e molto più veloci. Ecco, che cosa devono portare nella loro borsetta? Poco e niente? Perché fornite quasi tutto voi? No, praticamente anche questo è per ridurre i tempi, noi forniamo dall'accappatoio, dalle ciabattine, dagli intumenti che può essere il leggings e la t-shirt, dal bagno schiuma veramente a tutto, quindi non hanno nemmeno la preoccupazione di prepararsi un borsone. Siete aperti tutti i giorni, da che ora a che ora? 8 del mattino, 9 di sera, orario continuato, da lunedì al sabato. Quindi bisogna venire qui e prenotare la propria seduta e poi cominciare un ciclo? Sì, bisogna venire qui e prenotare la propria seduta e ognuno di loro avrà il proprio personal trainer e praticamente bisogna mettere leggermente un po' di impegno solo una volta a settimana per 20 minuti. Praticamente questa attività in soli 20 minuti consente un reclutamento di oltre 300 fibre muscolari. Questo che cosa significa? Che noi abbiamo l'efficacia al 100%, una sola volta a settimana. Come diceva la mia collega Rossella, è un'attività che possono svolgere tutti, quindi praticamente è un'attività anche che va ad interagire, quindi va a correggere la postura. Infatti viene molte volte intrapresa anche in campo medico e noi con il mio collega che siamo dei professionisti andiamo a curare nei dettagli ogni persona. Praticamente qui si possono affacciare delle persone che hanno bisogno di miglioramenti fisici ma anche persone che hanno delle problematiche. Ovviamente in soli 20 minuti il risultato è garantito. Con quattro sedute, quindi dopo un mese, già le persone possono avere praticamente il riscontro positivo del lavoro effettuato. Ecco, una seduta base, facciamo un esempio di una seduta base, in cosa consiste? Allora, dei semplici allenamenti a corpo libero, in questo caso andiamo anche ad intraprendere un semplice allenamento di calistenico. Quindi praticamente che cosa significa? Una persona che si affaccia per la prima volta in palestra a volte ha delle difficoltà anche per quanto riguarda il lattato, quindi l'acido lattico accumulato. Noi evitiamo questa problematica andando piano piano a collaborare insieme al cliente facendolo praticamente sciogliere, evitando praticamente queste lesioni muscolari. Questo che cosa succede? Che dopo la prima seduta di allenamento il cliente non avvertirà dolori, li avvertirà dopo qualche giorno. Questo perché? Proprio perché siamo andati a simulare le oltre 300 fibre muscolari, significa che il lavoro sbotto a 360 gradi è andato a rangire su tutto il corpo. Il nostro corso è un'ambiente, senza di un'ambiente, senza di un'ambiente, senza di un'ambiente.